Soltanto 6,2 punti ma 4,9 assist a Lice che lo portano al terzo posto nella classifica degli assist men in questo campionato. Peric si complica la vita siccome in una stagione straordinaria trova questo canestro pur non avendo mosso la palla particolarmente bene Venezia. Res in punta per Dulcis, uscita dai blocchi da parte di Ruzier, adesso quintetto confermato piccolo in questi ultimi due minuti e mezzo per Lumana. Troppo spazio per Peric per non prendersi questo tiro, quest'anno vede tutti i canestri su tutti i campi. Capo a Milano la terza giornata e a Capo d'Orlando alla quindicisima in questo campionato. Poi come detto nove importantissime vittorie, Peric ci mette una mano, Venezia vuole provare a dare l'impennata necessaria. Mordente di tutta la gara, meno di un minuto, Murata Careston chiude il palleggio, Ivano però perde la maniglia, Mordente che non commette fallo, Mur nemmeno, Pericciaco viene concesso un facile appoggio al tabellone, time out di Quocenze.